Signori e signori benvenuti in questo nuovo episodio della serie survival su minecraft Prima che cominci il video come sempre vi invito lasciate un bel mi piace per supportare la serie Iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino Scrivete che cosa ne pensate Bene 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 signori come state bentornati nel 136esimo episodio della serie survival su minecraft Ehm... Cosa è successo? L'armatura di nederite? Ebbene si signori nell'ultimo episodio abbiamo farmato un po' di nederite Io ne ho fatta un po' qui ne ho tre pezzi qui Ne ho altri, altri sette Perché signori dobbiamo fare l'upgrade all'armatura e all'equipaggiamento definitivo Nello scorso episodio avevo detto che avrei fatto una nuova armatura e un nuovo equipaggiamento Signori no Cioè mi spiego meglio in che senso no Che questa armatura che io l'ho sudato per averla quindi voglio tenerla E poi ho scoperto una cosa fantastica Cioè se noi mettiamo qualcosina rimane così com'è solo Che praticamente viene potenziato Quindi che cosa ho detto? Ho detto ok ma possiamo farlo anche con il torso Sì signori lo possiamo fare E quindi a parte la spada Che quindi non sarà più Fire Mission V2 Ma ne avremo praticamente un'altra Il nostro bell'inventario diventerà totalmente di nederite E questa è una cosa fantastica anche perché voglio apportare quella modifica in più Che ci può servire per avere praticamente l'inventario definitivo Cioè l'equipaggiamento definitivo sia dal punto di vista dell'armatura Sia dal punto di vista delle armi Ora dobbiamo passare dalla casa del signor Indovino Buongiornissimo come va? È passato un po' di tempo e da un sacco Un saccaccio che non vengo Signor Indovino Signor Indovino Brutto Strofacchione Mi ha praticamente niente Mi ha avvenenato Ma signore signore Eccoci qua In teoria qui ci dovrebbe essere Eccola Ah è quasi finita praticamente La nostra Anvil Però Allora Dura molto? 24 secondi Immortaci le bippo Fammi mangiare Aspettiamo un attimo E signori Partiamo con il nostro upgrade Prendiamo la nostra bellissima armatura Basta però Basta Ho detto basta 9 secondi Rischiamo di morire Fortunatamente a metà si blocca Meno male 2 1 Grazie Oh Oh Signori Siamo pronti Salutiamo per l'ultima volta La nostra armatura E prepariamoci A prendere La nostra carissima Armatura In nederite Che Tra l'altro È un'ottima armatura Ma È vero anche che Ha una sorta di Fire protection Solo se Droppata Nella lava E quindi io voglio essere sicuro Di essere sempre Al massimo Ed eccola qua Signori L'armatura Finale Di nederite Eccomi qua Madonna Bellissima Poi molto C'è cangiante Quindi Veramente Fighissima E Mending Fire protection Thorns Unbreaking Signori Che cosa manca Mancano questi due Thorns qua Da aggiungere Credo molto probabilmente Agli stivali E ai gambali Quindi Non so se ho Abbastanza Livelli Per poterlo fare Secondo me Sì Dove sono i Thorns Questo è uno Costa 24 Livelli Ma che ce frega A noi E anche qua 23 livelli Signori Boom Questa È La L'armatura Definitiva Non ho messo Thorns Anche sull'elmo di fuoco Signori Perché non ne ho più Thorns Effettivamente Ora però Dobbiamo Innanzitutto Passarci Infrizzi Che diventerà Infrizzi Finale Woodcrusher Ecco qua E Palapalosa A cui verranno dati Dei nomi Un pochino Più cazzuti Perché insomma Palapalosa Per Una palla di Mederite Scusatemi un attimo Ma c'è C'è un attimo Era veloce Perché Uno slime C'è un attimo Da capire Quindi troveremo Anche Degli altri nomi Ed inoltre Ho la Nederida Sword E signori La crossbow Perché si Stiamo cambiando Tutto il nostro inventario Lasceremo Anche Il caro Boom vecchio Thanos Per prendere La crossbow Quindi io direi Di fare Un attimino Un po' Di Exp In realtà Sapete cosa potrei fare Potrei Prendermi un grindstone E andarmene Alla farm Di Pesca Questa Questa cosa qua È il male Ogni volta Per me Uscire Non ridertela Perché Guardalo Maledetti Voi Scusi Madonski Allora Allora Momento buono Che utilizzo Per la prima volta Il piccone Di nederida E Senti Lo metto Momentaneamente Lo metto qua Lì non dovrebbe Dar nessun tipo Di problema Qui non possiamo Dormire ovviamente Perché c'è una Strega Nelle vicinanze Ci avvicina Troppa gente Troppa gente Ma Ah mi tolgono qualcosa Guardate che se arriva un creeper Qua ridiamo tutti Praticamente Intanto divertiamoci un altro pochino Con l'arco Visto che non lo vedremo Praticamente più Per un bel po' di tempo Intanto si ammazzano Vicino a me Io scappo Perché comunque Non sembra Ma il loro danno Lo fanno Queste carogne E Signori Sono veramente Stracontento Pure me ne vado un po' La farm di ragni Vado a farmare Un tot di livelli In realtà Non saprei Sapete Sono molto Combattuto Su questo Però andiamo a dormire Perché Dobbiamo fare le cose Con calma Io avevo detto Di voler prendere Un grindstone Che in teoria Forse Ho Da qualche parte O comunque Dovrei poterlo Craftare Vediamo cosa Allora La tristezza Di questo crafting Non costa Assolutamente niente Però me lo scordo Allora Facciamo così Ce ne servono Due di questi E due di questi Perfetto Quindi facciamo così Grindstone Per noi Signori Come funziona Il grindstone Probabilmente qualcuno Potrebbe non saperlo Semplicemente Per questo motivo Vi dico Andiamo alla farm di pesca Mettendoci Degli oggetti Incantati Praticamente Si recupera L'oggetto Si recupera L'incantamento Sotto forma Di exp Perché sto andando Alla farm Intanto lanciamo nel pozzo Un po' di carne marcia Perché non si sa mai C'è qualcuno Lì sotto Che vuole mangiare Perché questo Perché è il modo migliore Il modo più rapido Per fare Un po' di exp Ovviamente Le farm di exp Sono sicuramente Le cose proprio più Più veloci Però questa meccanica Del grindstone C'è E quindi Perché non utilizzarla Per esempio Prendiamo Questo arco qua Occhio a non metterci Delle cose che ci interessano Di qua c'è Mending Perfetto Purtroppo non possiamo Passarli Quindi facciamo così In teoria Vedete Distruggendolo Prendiamo Tra l'altro Ah questi Ah Che figo Questi non li prende Ok Quindi io mi faccio Un po' di livelli Mi svuoto un attimo Tutti questi inventari qua E vediamo Quanto Alla fine Quanti livelli Riesco a fare Quindi ci vediamo Tra pochissimi E dunque signori Ho finalmente Terminato Un po' Gli enchant Che si trovavano Nella farm di pesca Sono andato anche Alla farm di ragni Per insomma Ripristinare Un po' In frizzi E devo dire Che sono un po' triste Perché non posso Fare altri Incantamenti Su in frizzi Perché purtroppo È già Bello che carico Vedete Mi dice Too expensive Quindi peccato Ma non possiamo farlo In realtà però Possiamo Ovviamente lasciarci Il nome in frizzi Perché rimarrà Sempre quello Mentre per quanto riguarda Woodcrusher E parapalosa Ricordatevi di lasciarmelo Scritto qui sotto Nei commenti Costerà 8 8 per Palapalosa E per Woodcrusher Invece 32 C2 È un pochino Caruccio Direi Però comunque Lo faremo Fatemi lasciare Proprio voglio Dei nomi Che devono Distruggere Proprio Quanto Il concetto Di bello Lo dovete prendere Lo dovete distruggere Mi dovete dare Dei nomi fantastici Sperando di non perdere Il mio equipaggiamento In questo episodio Comunque Oltre ad aver Praticamente Potenziato All'inverosimile La nostra armatura Dobbiamo anche Farci la nuova spada Quindi la fire mission È qui E noi Prendiamo Questi Librozzi Qua Questi Librozzi Che ci serviranno Appunto Per la nuova spada Che Non so Adesso ci pensiamo Un attimo Stavo pensando A qualcosa Del tipo Boh Qualcosa di vichingo Però Nomi vichinghi Di spade Non me ne vengono Mettiamo Innanzitutto La nostra Naderide Sword E perderei Veramente un attimo Per mettere il nome Sul nome Io utilizzerei Una roba Come Definitive Quindi Definitiva Avevo pensato Tipo La Sveinander Difficile Da scrivere Poi è Strautilizzata Una spada Nera Fatmi pensare Rapidamente Una spada Nera Che sia Incredibilmente Forte Sto pensando A tutto ciò Che ho visto Tutte le mie Diciamo Esperienze Dal punto di vista Ludico E non Se mi viene In mente Una spada Così Tanto Forse Ce l'ho Forse Ce l'ho Credo di averla Allora Stavo pensando Un attimino Vi spiego Stavo pensando A una spada Dura Definitiva Che potesse Essere Interessante E sapete cosa Signori Mi è venuto In mente Il concetto Dell'acciaio Di valyria Di game of thrones E c'era La spada Che Adesso Senza starvi a spoilerare Qualcuno Regala A qualcun altro E la chiamava Giuramento Che era Praticamente Una spada Riforgiata Partendo da Un'altra spada Quindi l'idea Di riforgiare Una nuova fire mission Con gli stessi Incantamenti Ma su un'altra spada Mi dà veramente Tantissimo L'idea Che questa Si possa chiamare Giuramento Bellissimo Bellissimo Come no Cosa gli dobbiamo mettere Innanzitutto Smite 5 E looting Quindi Giuramento Avrà smite 5 E looting Un buon Sweeping edge E anche un buon knockback Oltre a questo knockback Dobbiamo andare ad aggiungere Un altro smite 5 E poi mettergli anche Un unbreaking 3 Per un totale Di 19 E 25 Un'altra Sbraccona di livelli Signori Eccolo qua Il nostro Giuramento Bellissimo Richiama la nederite Forse un po' L'acciaio di valyria Di game of thrones Molto carino E adesso Quindi purtroppo Mi resta Non mi resta altro Che andare a farmare Ancora Un po' di exp 30 livelli In realtà la farm Di ragni Non ci vuole tantissimo A farli Più che altro E ci vuole tanto Ad aspettare che loro Sponino Questo è vero Però aspetteremo Signori Perché Questo equipaggiamento Qua merita Lo proverei Doppio colpo Però eh Doppio colpo Ricordandovi anche Che sulle spade Io non metto Assolutamente Mending Quindi Occhio franco A non buttarla Occhio franco A non perderla E occhio franco A non farla distruggere E inoltre Ovviamente Alla fine Andremo anche A dare il giusto riposo Il giusto posto Per il riposo A Fire Mission Perché Dà un bel po' di puntate Che ci aiuta Che Insomma Che ci insegue La Fire Mission V2 Quindi signori Vado a farmare Questa quarantina Di livelli Sono un po' tanti Però anzi Ce ne serviranno anche Di più di 40 Perché poi Dobbiamo anche Incantare La crossbow Quindi ci vorrà Uno sbrocco di tempo Buono Ci vediamo tra pochissimo E dunque signori Ho terminato Finalmente L'upgrade Anche di giuramento Ci è voluto Più tempo del previsto Fortunatamente In questo periodo Sto guardando Attack on Titan Però no spoiler E quindi Tra una puntata E l'altra Farmare La farm Di ragni In realtà È molto molto Semplice Sono arrivato Anche a 35 livelli E qui Si è presentato Un cane Ok Va bene E direi Che è arrivato Finalmente Il momento Di andare Ad incantare La nostra Crossbow Crossbow Che il nome È già bello Che è previsto Già Lo ben so E qui abbiamo Un piercing 4 Piercing 3 O unbreaking Vediamo un attimino Cosa riusciamo A prendere Piercing 4 E unbreaking 3 È buono E direi Però Che ci servirebbero Delle altre Degli altri Incantamenti Per esempio Multishot E per esempio Anche Quick Charge Perché Quick Charge Ci dà la possibilità Di essere più rapidi Nel momento In cui vogliamo Ricaricare Come si chiamerà La nostra balestra Ovviamente Signori Da buon Fanboy Di The Walking Dead Non può che Chiamarsi Daryl Perché Daryl Per il semplice fatto Che Daryl È ormai diventato Il protagonista Della serie Ed è anche L'unico Che utilizza La balestra Quindi la balestra Di Daryl È probabilmente Iconica Nella Diciamo Nella storia Di The Walking Dead Mi piacerebbe Provarla Anche se Dobbiamo Potenziarla Metterò Effettivamente Il multishot Ci stavo pensando O in realtà no Cioè non lo so Forse Piercing sì Quick Charge Sì Però bisognerebbe Anche un attimino Cercare Il posto Insomma Dove poterli farmare Forse la farm di pesca Potrebbe essere un'idea E vediamo un attimo Ecco Come ultima cosa Che possiamo fare Andiamo Direttamente Al monte spada Perché dobbiamo Lasciare La nostra carissima Fire mission V2 E dobbiamo Tra l'altro Vedere Effettivamente Come funziona Daryl E dobbiamo Cercare Probabilmente Nel prossimo episodio Un posto Invece Per il nostro Thanos Che è praticamente L'arco Che ci ha accompagnato Da un bel po' In realtà Non ho segnato Il giorno Però mi piacerebbe Dargli Il giusto Riposo In una In una costruzione Ora Non farò Chiaramente Né un arco Né una freccia Però Qualcosina Ce la possiamo Inventare Anzi Se avete qualche idea Lasciata Qui sotto Nei commenti Come al solito Stavo pensando Un attimino Dove poterlo lasciare Quest'arco Sapete che Non Non mi viene nulla Non mi viene assolutamente Nulla Almeno Non mi viene nulla Al momento Più che altro E Quindi Boh Vediamo se Possiamo utilizzare Piercing Qua la farm Di Pollozzi Ecco E allora Vediamo Adoschi Olbezzi Che figo Vabbè lui è scappato Proviamo il giuramento Oh Bellissimo Bella Oddio Non fa niente di più Niente di meno Rispetto No escono tutti Non ha fatto né di più Né di meno Rispetto Alla spada di diamante Però l'idea di avere Una spada di nederite O acciaio di valiria Come vogliamo chiamarlo Mi piace tantissimo Quick charge Non proprio Perché è un po' lentuccia E a questo punto Andiamo Ce n'è Di qua Lì c'è un Ferdinando Spoiler E ce ne andiamo di qua Per andare appunto Sul monte spada Monte spada Che Per chi non dovesse saperlo Nasce Come questa spada Conficcata Nel Nella roccia Che blocca L'avanzata Del neder Sul mondo Poi il neder In realtà Ha preso Il via Però non ci possiamo Fare niente Questa è mission E dobbiamo Prendere Vediamo se ho Un po' Di legna No Tra l'altro qua Un altro nederite PX che Perché no Ci potrebbe tornare utile Questo è 4 di attack speed In realtà Fa schifo Quindi devo andarmi a prendere Un po' Di legna E dovrei poterla prendere Da queste parti Ricordatevi signori Di lasciare un bel commentino Con Scritti I nomi Da dare a queste A queste nuove armi Ecco qua Qui c'è Una bella foresta Che mi può tornare Abbastanza utile E veloce In realtà Direi che è anche Abbastanza uguale Anche perché Questo è efficiency Quindi 10 attack damage Ecco La nederite ti dà La possibilità di fare Molto più danno Ora Già con i normali Incantamenti Le armi Di minecraft Fanno Un sacco di danno Il perché Non mettere Dei perks Diversi Sulle armi Questo io Non me lo Ancora non me lo spiego Allora Dovrei avere una crafting Faccio così Faccio così Poi faccio anche Un po' così E facciamo Anche un po' Di questo Quindi Eccola qua Sprossine Andiamo a Metterci Direi Nulla In realtà Forse possiamo Metterci qualcosa Di un po' più Caratteristico Tipo Una lanterna E un blocco Di oro Così Totalmente Mettiamo Il blocco Anzi Doppio blocco Di oro Perché Perché il cambio Di spada È arrivato Nella 1.16 Adesso la sto Cioè Sto cercando Un po' di loro E la 1.16 È Diciamo In un certo senso Quell'aggiornamento Che ha dato A loro Un Gran peso E quindi Ci sta Andiamo a metterci La nostra Carissima Fire Mission V2 Andiamo Qui A metterci Una Bella lanterna Qua davanti Guardate che bella Questa è la nostra Fire Mission V2 E andiamo a scrivere Fire Mission V2 Che ci ha accompagnato Signori Dall'episodio 56 Detto questo Signori Io vi ringrazio Per essere rimasti Qui Mi accompagnate Se il video Mi è piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare Un bel mi piace Per supportare la serie Iscrivervi al canale E lasciarmi un commentino Scrivendomi che cosa ne pensate Noi ci vediamo In un prossimo episodio Della serie survival Su minecraft Ciao Ciao